Un po' in ritardo, Coop. Sì, abbiamo bucato. È un drone di sorveglianza indiano. Le sue celle solari alimenterebbero una fattoria. Che hai fatto, Murphy? Non ho fatto niente. La legge di Murphy. Sei un uomo istruito e sei anche un pilota esperto. E un ingegnere. Il mondo non ha bisogno di altri ingegneri. Non abbiamo esaurito aerei e televisori. Abbiamo esaurito il cibo. Papà, perché mi avete chiamato come una cosa brutta? Non è vero. La legge di Murphy. La legge di Murphy non significa che succederà una cosa brutta. Ma che tutto quello che può accadere, accaderà. Dobbiamo affrontare la realtà. Non c'è niente nel nostro sistema solare. Che possa aiutarci. Ora mi deve dire qual è il suo piano per salvare il mondo. Non siamo destinati a salvare il mondo. Siamo destinati ad abbandonarlo. È la missione per cui sei stato adestrato. Ho dei figli, professore. Vai lassù e salvali. Non sai nemmeno quando tornerai. Ma tornerò. Dobbiamo arrivare molto al di là della nostra personale esistenza. Dobbiamo pensare non come individui. Ma come specie dobbiamo affrontare la realtà del viaggio interstellare. Murphy, ti voglio bene. Per sempre. Tornerò. 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 Tornerò.